La promozione della cultura della legalità e la restituzione alla collettività dei beni confiscati alla criminalità organizzata sono al centro dell'intesa sottoscritta a Firenze dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni e dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'obiettivo principale è migliorare la gestione delle tenute di Subignano, in provincia di Siena, e della Balsana, in provincia di Caserta, due modelli virtuosi di gestione pubblica e beni strappati alle mafie e alla camorra. La Balsana, questa tenuta in provincia di Caserta, che è chiamata a gestire la regione Campania, e Subignano, nella provincia di Siena, che è chiamata a gestire la regione toscana, se ci aiutiamo reciprocamente, com'è in questo protocollo, è un esempio di come le regioni possono arricchire, attraverso la loro collaborazione, questo segnale forte che lo Stato è autorevole e riesce a gestire al meglio ciò che invece, attraverso i suoi canali finanziari, la mafia si era portata ad arricchimento dei patrimoni dei singoli boss. L'Agenzia per i beni sequestrati e la delinquenza organizzata nasce dal sacrificio di uomini che hanno combattuto la mafia e la camorra, in larga misura meridionali, Piola Torre, Livatino, Peppino Impastato, Falcone, Borsellino. Bene, noi dobbiamo rendere onore a questi uomini che hanno dato all'Italia cose straordinarie e dobbiamo farlo facendo in modo che i beni che ci derivano dai sequestri alla delinquenza organizzata abbiano una funzione produttiva, altrimenti rischiamo un boomerang. Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo fra Toscana e Campania, un secondo patto è stato siglato fra Ente Terre di Toscana e Agro Rinasce, le due società pubbliche che gestiscono le tenute di Suvignano e Balsana. Nei prossimi quattro anni, quindi, saranno elaborati studi e ricerche a quattro mani sullo sviluppo agroalimentare e l'economia circolare e sulla realizzazione di uno o più progetti sui beni confiscati da valorizzare all'interno di una più ampia strategia nazionale attraverso le politiche di coesione e l'utilizzo anche dei fondi statali, regionali ed europei. Grazie a tutti.